In Giappone Panasonic ha messo a punto un sistema che scannerizza tutti insieme i prodotti riposti nel cestino della spesa, una tecnologia che potrebbe far risparmiare tempo prezioso nei supermercati. La base del piccolo carrello si apre automaticamente e i prodotti scivolano direttamente in un sacchetto. Il Regirobo, questo è il nome del congegno, usa delle piccole frequenze radio per identificare e prezzare ogni singolo prodotto.